Pura mondiale è chiaramente deciso a rientrare nel roster, intanto una bella finta di scarico che ferma per un attimo, secondo fallo, vedete per Andrew Thomas, Woldetensae, c'è intanto il passaggio immediato, sotto canestro, il canestro di Alviti, il basso di Forrai che corre, Ellis è scaricato per Cook, la tripla di Alviti, la tripla del 64 a 62, Hub controlla quanto manca, sa che deve tirare prima possibile, ma forse non lo fa, scarica per Alviti, tripla fondamentale in questo momento, alla fine lettura perfetta da parte di Hub che sembrava aver perdita.